La porta su Rinaldi che tiene in qualche modo, palla spostata in due. Lusso smanaccia il pallonetto, viene difesa. Attacca di prima intenzione, Mar. Con una gran bella scelta e una gran bella esecuzione. Mar canta il pallone, va forte, la palla è in campo. Oh no, sì per l'arbitro. Scusa di schiva, riflessione perfetta. Zimmerman, pipe da parte di Mar, esecuzione perfetta. Si va fuori da Rinaldi con la pipe, murato. La runza forte, Federici bene in ricezione. Zimmerman in quattro per l'attacco di Mar. San Junetti forte, riceve Federici, poi si va da Mar in quattro, sopra il muro. Foda la tira forte ancora con Bruno, Davi Schiva tiene la palla sui tre metri. Di costruzione, Mar, lascia andare il braccio, c'è il tocco del muro. Adola Gunza ancora forte, la ricezione di Davi Schiva, palla alta in quattro per Mar. Grande colpo, quello di Steven Mar. Forte, la ricezione buona di Davi Schiva, palla in quattro per Mar, ancora a segno Mar. Davi Schiva, fortissimo, si oppone in qualche modo Rossini, poi Marescial appoggia contro il muro. Può rigiocare Modena, lo fa ancora con Marescial, murato, murato da Mar. Il vero volley che è stato sotto per tutto il quinto set, si trova avanti, 17 a 16.